ragazzi consigliato sono 28 euro ma una vista così davvero non è impareggiabile è impareggiabile ora scendo e ritorno dove ero prima in pratica più o meno dove avevo sbagliato strada e vado per il passo stalle a dopo ragazzi non ho registrato la scena però quando bisogna sempre aiutarsi tra motociclisti infatti ho visto due ragazzi fermi uno che spingeva la moto per farla ripartire e visto che io sono accessoriato di booster per dargli carica l'abbiamo fatta ripartire quindi ragazzi io se vedo qualcuno in difficoltà mi fermo sempre perché potrei essere io quindi quando vedete fratelli motociclisti alle prese con problemi fermatevi se almeno hanno bisogno e niente ci vediamo sul passo stalle le nostre donomiti bellissime guardate qua imponenti se qua sono proprio le donomiti che restano a confine tra tra austria e italia infatti di là abbiamo trentino friuli bellissimo 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 dove c'è pratica il pivio che a destra si va al finto gloss glocknet e invece qua a sinistra si sale verso il passo stalle e noi infatti saliamo per di qua ok vabbè essere qua ok vedete stalle 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 sattel stalle sattel uvert aperto e si sale di qua 23 chilometri forse anche di più e poi scendiamo dall'italia e ho detto che era più bello farlo dall'altra parte però d'altronde non è che potevo fare il giro tondo già l'ho fatto qua il giro tondo prossima volta che si fa il gloss glocknet si fa il passo stalle si va a fare il gloss glocknet prima di fare prossima ciao 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti